Ma cosa succede? Ma cos'è? Anche su di lei? Avete detto che avrebbe avuto più senso una mia carrellata e quindi ci abbiamo ripensato Vi abbiamo accontentato Grazie comunque Ora non facciamone più che siamo contenti tutti Ma signor Carlo, se io decido di farne anche un'altra la faccio A questo punto Perché una carrellata su di me fa sempre piacere anche a casa E alza l'audience anche Allora, siamo in un momento abbastanza delicato Un momento che la gente attende da una settimana E io mi aggrego Mi accodo a questa gente che attende questo numero Da una settimana Cioè? Un numero internazionale No! Arrivano da molto lontano Arrivano da molto lontano Prezzanti del pericolo E devo dire che fino adesso è andata bene Noi stasera se ci uniamo in un'accordata Ma un'accordata che abbracci Teniamoci tutti per mano Tutti per mano Possiamo attendersi anche un risultato meno benevolo Signori, per l'ennesima volta qui a mai dire gol I bulgari! Ma quanti sono? E ti sono diventati? Quattro? Si riproducono? Ma cos'è? Ma chi è? Grazie! Pericoli, scusi, ce n'è uno in più Signor Pericoli, sono diventati quattro i bulgari Bene, via con la sigla Che sigla? Che sigla? Sono diventati quattro Perché sono quattro? Sono quattro, vi spiego Perché i bulgari quando sono dalle loro parti Cioè vicino a casa Si aggregano con molti familiari Guardi che la Bulgaria non è così vicina Ma lo sono in tanti Quindi diciamo che i familiari sono sparsi in tutto l'est Cortina Oltre Cortina Vediamo se in quattro Questa sera possono Portare a casa il numero decente Possono portare a casa qualcosina Ed essere Ecco, ce n'è già uno bellissimo Risparmiati dalle vostre illazioni E dalle vostre spiritosani Vediamo, via con il numero i bulgari Che succede? Io l'ho già visto questo qui Ecco, vedete Il numero degli anelli Forse il numero più difficile Mai affrontato dai bulgari Bravissimo, ma ho un po' io Guardate, questo è un inchino Inchino agli anelli Ma come mai non si solleva lui? Se si può aprire il cap Ecco, purtroppo un anello Signor Pericoli Un anello si è sganciato Signor Pericoli? Sì Ma che numero è questo? Scusate Ma cos'era questa roba? Ma c'erano gli anelli con gli elastri Ma che tristezza Si è un miglio Siccome io non sono un pinocchietto Venga qua lei, scusi Io non sono qui per farmi prendere in giro Ah, si era anche incastrato L'avete avvisato voi? Ho questo qua Allora, io mi scuso con la gialappa E poi col pubblico a casa Giusto? Uno peggio dell'altro Ho preso il fratto Cosa vuol dire questo fatto? Senta, noi questo bulgaro l'abbiamo già visto Sommigliano mai Assommigliano un po' a Yuri Kekki Un attimo in silenzio Non può essere lui Vediamo cosa ci combina Intenzione Cosa vuol fare? Beh Beh, qualcosa di un po' più Beh Signor Pericoli, lo faccio fare anche gli altri tre Signor Pericoli Sì Lo fa fare anche gli altri tre, per favore Complimenti È una soddisfazione personale Signor Pericoli, lo facciamo fare anche gli altri Grazie, complimenti È la soddisfazione personale Signor Pericoli Lo faccio fare anche gli altri Signor Pericoli, voglio sentire cosa dite Signor Pericoli, richiami gli altri tre Vogliamo vedere lo stesso numero degli altri tre No No, come no? No Ma questo, per favore La soddisfazione è stata totale, globale E parlando di totale, globale Abbiamo Cos'era? Eh, pazza Cos'era? C'è che è passato? L'ha mancato! L'ha mancato! Colpo di fortuna L'ha mancato! Vediamo l'ultimo Grazie Grandissimi, grandissimi L'ultimo era bravito E poi che sono capace Vediamo No Ce l'ha fatta Quasi Quasi Pericoli tocca a lei L'avventura Vediamo anche la